Ma spiegami, ora che voi del Napoli state per andare in Serie A, perché mai non volete un campione come Cassano? Cassano è forte per carità, però non lo vogliamo perché abbiamo un sacco di problemi di immondizia e sappiamo che Cassano mangia assai, quindi chissà quando immondizia produce, noi non lo possiamo prendere, ci dispiace. Grazie